Comincia a sedici anni, attraversi realtà produttive in varie parti del mondo e finalmente, anche se questa è una questione antica, quello che deve essere il ruolo, io dico femminile, nel mondo del cinema è diventata un'urgenza fondamentale. C'è stata una progressione, secondo te, nella presa di consapevolezza non solo di attrici, registri, sceneggiatrici, produttrici, ma anche del mondo più largo, del contesto cinematografico in questi anni o è sempre un andare avanti e indietro in questa questione? Penso tutte e due, tutte e due le cose che hai detto. Penso che c'è stato e come, è evidente che c'è stato, lo dicono, che non è ancora quello che dovrebbe essere, però che, diciamo, la, come l'hai chiamata, presenza femminile, oppure la... Sì, anche il ruolo, penso. Il ruolo femminile nel cinema è cambiato negli anni, appunto, lentamente, perché io ho cominciato con una regista donna, Lina Bertmuller, ed erano due, erano Lina Bertmuller e Liliana Cavani, tra l'altro due superregiste, che fossero uomini o donne, sarebbero stati due superregisti, però erano due. Adesso siamo 15, 16, 20, non tanti di più in 30 anni, però ci sono, ci sono più donne, come dire, direttrici della fotografia, i ruoli delle attrici si sono... Questa è una cosa abbastanza che io vedo che culturalmente è cambiata, nel senso che un'attrice della mia età, 30 anni fa, o anche 20 anni fa, non avrebbe continuato a lavorare con la... come si dice quella parola? Continuità. Continuità. Nel senso che è chiaro che non posso più fare i ruoli che facevo a 25, a 30 anni, che le cose diventano altro, come giusto che sia, però le attrici oggi a 50 anni lavorano ancora come le attrici di 38, 40 anni di prima. E questo è un cambio culturale nella testa, nella società. C'è stato, secondo me. Come ci stanno, tutta una serie di cambi culturali che stanno succedendo adesso in maniera un po' forse anche con tutto quello che è successo negli ultimi due, due, tre anni, due anni forse di... appunto, scandalosi, poi con i movimenti, mito e tutto il resto, anche disordinatamente, qualche volta anche violentemente. Perché secondo me tutti i cambiamenti culturali poi comprendono anche degli errori da tutte e due le parti e quindi ogni tanto leggo cose che mi mettono anche a disagio come donna rispetto a che cosa sia giusto e sbagliato, come gli uomini si devono comportare con le donne, le donne con gli uomini, tutto questo bigottismo che adesso sta per forza di cose come dire, proprio come reazione ad anni e anni di abuso di potere, di modo di di porsi delle donne e soprattutto di modo di porsi degli uomini, diciamo, no? Quindi, adesso c'è quest'altra situazione qui. Io penso che anche attraverso questo periodo si arriverà poi piano piano tutti i cambiamenti insomma passano da vari stadi, da vari stadi. Poi, e poi finisco con questa piccola filippica sulle... però penso che il fatto che spesso ancora le donne sono pagate allo stesso, nello stesso posto, con lo stesso e i medici in tutto, non solo nel cinema, in vari... cioè che siano pagate di meno è talmente inconcepibile ormai che anche parlarne è diventato... cioè dovrebbe essere semplicemente cambiare, cioè questo tipo di cosa qui non se ne dovrebbe più parlare. È assurda, inconcepibile, no? Purtroppo se ne continua a parlare perché il problema c'è ancora... Persiste. Persiste. Persiste, quindi bisogna continuare a parlare e quando non se ne parlerà più vorrà dire che sarà una bella giornata. Sarà una bella giornata. Senti, lui...